no 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 dobbiamo staccarlo signore non mi fa un servizio qua ragazzi solo questa è quella lì a pochi metri un pochi metri un pochi metri un pochi metri Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Sì, non pò rientzo, sì. Grazie a tutti. Quella lamiera si è attaccata all'albero, dopodichè è caduto sia l'albero che la lamiera. Non lo so, per far come in Francia. Stai visto? Sperto attraverare la nuova. Per me. D'amico che non mi mette. Ehi... Di la chi volta che lo stai vediamo, quelle dischi. Questa sono andato. come ha quitté ton pion? si il tuo giudice si Grazie a tutti. Così sta piegando, quindi vuol dire che... Ma infatti, anche quella della media attenzione che sta stato qua è piegato così. Non è piegato così, no, è piegato così. Quello là, verso l'altra mora, è piegato così. Però, e vabbè, quello è stato anche guidato... Il pilastro dell'altra attenzione è quello che è chiamato, è chiamato così. Eh, però diciamo che quello comunque è stato un po' guidato... E con le polini... E con le polini... E ora vedo quello che ci ho detto alle porte... Va bene... Va bene... Va bene... Va bene... Va bene... Quello che è? Una... Una penna di quattro animale... Cioè sarà stato... C'è una gallina... Sarà tirata da un fossile... ... 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 non è stato un cuore Questo non l'ho messo io. È come un proietto. Perché lo vedi dall'altra parte? No, da sotto. È come un proietto. 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 È come un proietto.